via il video è partito si allora oggi proviamo a fare un video che avevo fatto tanto tempo è una prova tempo fa questa è una prova facciamo una trial list non sto facendo a cellulare perché non sto facendo a cellulare perché non avendo più camtasia o comunque attura schermo sul computer ho provato ad usare fraps ma non ho ancora capito come funziona sto provando ad usare master recorder adesso vediamo cosa esce è una prova e come prima come prima prova ho deciso di fare una trial list sulle squadre dell'nba con io terrei io terrei il grado di metro di misura che sta utilizzando questo che è questo questa trial list che parte da love e finisce in 8 non so perché piston me l'ha già messo in 8 non l'ho mosso vabbè comunque allora partiamo dai pistons i pistons a me non piacciono hanno una storia interessante i pistons sempre come squadra abbastanza violenta e cattiva sinceramente non la odio la metto in dislike perché non mi fa schifo però non è sicuramente una squadra di quelle che non mi piacciono poi abbiamo atlanta hawks che invece è una squadra che non mi piace ma la metto in don't mind cioè non mi interessa molto come squadra non è che mi piace molto boston i boston a me piacciono tantissimo per tutta la storia che hanno avuto beh tutto quello che vuoi ci sono bastati tantissimi giocatori importanti e fra ne uno real e larry bird anche kairi irving che è comunque un giocatore che non mi piace però vabbè i boss li metto in like non sono la mia squadra preferita sono un po imbranato questo coso faccio un po' di fatica con questo coso essendo col telefono tra l'altro la mia faccia taglia mi taglia tutta la parte di del love comunque si vabbè il like lo mettiamo nel like cioè mi piace finisce lì però non è la mia squadra preferita metti in ex io l'ho sempre vestito come una squadra secondo me è inguardabile inguardabile cioè non mi è mai piaciuta però anche se quest'anno c'hanno dei giocatori forti un ex però rimane una squadra che io odio sinceramente non mi è mai piaciuta vedi non riesco a inserire non mi è mai piaciuta la metto tagliate il chicago bulls grande squadra di michael jordan prima dei bulls è che dopo michael jordan non c'è passato nessuno praticamente da di fuori di michael jordan c'è passato derrick rose che era fortissimo poi si è spaccato però i chicago bulls hanno una storia incredibile io i chicago bulls li metto in like comunque gli hornets non mi sono mai piaciuti tranne quando c'era larry johnson in questo momento però gli metterei tra i orca troia perché mi sta facendo sta cosa gli metto in metto in dislike dislike non li odio ma li metto in dislike allora il periodo è principalmente quello che vi ho visto di basket quindi sto parlando di quello è i Cleveland Cavaliers per Cleveland Cavaliers il discorso è con Lebron mi piaceva la storia che comunque non ha mai vinto niente arrivato a Lebron che doveva vincere comunque con quella squadra lì prescelto tutto quello che vuoi ma al di là di quello cioè equilibrando io gli metto 3 dislike gli metto 3 dislike cioè al di fuori di quello non mi sono mai piaciuti mentre mi piace come squadra i Mavs i Mavs sì Dallas ci sta tutto bellissima la favola della vittoria del 2010 con Novischi comunque Dallas ci sta io a me piace come squadra anche adesso con Tuncic è una squadra che comunque è valida è valida come anche valida in questo momento Golden State molti odiano Kerry perché dicono che sa solo tirare da 3 ma secondo me Golden State negli ultimi anni nell'ultimo decennio si dà a fare tante di quelle robe e a cambiare anche il modo di gioco dell'NBA negli ultimi anni lo metto nella like come metto nella like anche Houston Houston dai tempi di tressime credi ma vogliamo parlare di quando poi è arrivato con 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 Arden nel 2012 cioè no scusa nel 2013 cioè assolutamente i pizzeri allora non vorrei metterli nel like perché non è una squadra che mi piace però anche lì rispetto al dislike c'è la linea di mezzo sinceramente io lo metto in like comunque i pizzeri mi piacciono però allora adesso come adesso no però adesso come adesso no però con Paul George prima e con Reggie Miller do ancora prima ci sta veramente una delle squadre che secondo me valeva ma non è riuscita a mai vincere un titolo questo è un peccato come i Clippers che comunque al gioco spettacolare ce l'hanno arrivano sempre comunque ai playoff vanno il like anche loro i Lakers come i Lakers sui Lakers non posso dire niente c'è ostia me la cambia porco Dio devo riscrivere da capo ma perché Dio po i Lakers sono una delle mie squadre preferite non è la mia squadra preferita ma i Lakers io sto impazzendo questo coso i Lakers li piazzo nel love ostia sto impazzendo aiuto non devi fare così niente niente non riesco a spostare il i Lakers adesso io come faccio a ritornare con madonna come faccio a tornare su col telefono è veramente impossibile fare questi tipo di video è impossibile fare questi tipo di video nooo porco Dio niente fare questi video con il con il telefono è qualcosa di impossibile andiamo ai Nuggets stavo dicendo comunque torniamo un attimo ai Lakers una delle mie squadre preferite fin dei tempi di Kobe Bryant Kobe e Shaq e soprattutto Kobe e Shaq cioè quando è morto Kobe un po' me lo sento ancora perché comunque si era uno dei giocatori più forti degli ultimi tempi ma che dico della storia proprio meritava molti meritava di vincere quel sesto titolo meritava davvero tanto di vincere quel sesto titolo cioè come le Kobe è uno dei giocatori più conosciuti i Lakers quindi non posso che non mettere i Lakers che tra l'altro è la squadra più vincente se non sbaglio dell'NBA veramente a livello superiore rispetto agli altri anche ai Boston senza dubbio a Boston superati in grandissimo livello allora andiamo con i Nuggets i Nuggets non mi piacciono lo ammetto non mi piacciono cioè non mi piacciono non mi sono mai piaciuti non li odio mentre invece odio Memphis perché secondo me è stata sempre una squadra di merda punto cioè una squadra che in NBA per nessun motivo cioè per nessun motivo ed è stanno che una volta è arrivata in finale di conference mi ricordo ma se fosse per me Memphis potrebbe non esistere Miami 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 oh Miami io la metto nei like incredibile ai tempi di Shaq e Howard e Wade ma poi il i bittiri con Lebron con Bosch e Wade che ragazzi la squadra lì era fortissima soprattutto dopo aver perso il primo titolo contro Dallas da quell'anno lì secondo me dominanti dominanti ci può stare che hanno perso Constant Antonio tre anni dopo dove aver fatto il repeat però veramente tanta roba come squadra è tanta roba come mi sta piacendo ultimamente invece Milwaukee che la metto nei like anche se Milwaukee devo essere sincero fino a qualche anno fa non la consideravo l'avrei messo in dotmine però con Giannino a tetucumpo che adoro come giocatore veramente una bestia ci sta ci sta metterla nel like in Minnesota li metto in dotmine cioè non mi interessano stessa cosa i Pelicans odio New York New York non mi è mai piaciuta devo essere sincero New York a me non è mai piaciuta ho messo negli 8 sei Nets sei Nets sei Nets che New York è incredibile questa cosa mentre la mia squadra preferita dell'NBA rimane e rimarrà sempre Yokohama City Thunder perché io ho ripresa a guardare l'NBA nel periodo in cui c'era Oklahoma Torant Westbrook e Arden tre giocatori giovanissimi che dagli anni in poi sono diventati i continui MVP della stagione veramente con i Bacca e Perkins anche dentro con Sefolosha con tutto quello che c'era cioè Oklahoma secondo me è un titolo se lo poteva meritare se lo poteva meritare se lo poteva meritare una squadra una squadra come Westbrook Durant e Arden che in quel momento lì erano appena erano giovanissimi ancora Cerbi ci sta che hanno perso un po' meno la sconfitta che abbiamo ricevuto dal 3 a 1 al 4 a 3 con The State in quel momento lì i Oklahoma dovevano arrivare in finale era l'anno di Oklahoma era l'anno di Oklahoma ne abbiamo perso una partita dal 3 a 1 abbiamo perso 4 a 3 porco 2 però adesso Oklahoma fa un po' cagare però io Oklahoma rimane sempre nel cuore i Magic li metto in dislike allora il discorso Magic è particolare perché è una squadra che mi ha interessato per certi versi ma non ma mai così tanto ma a differenza di non mi ricordo dei Peacers che comunque hanno rischiato di vincere il titolo una volta come anche Orlando Orlando se non fosse per uno Shaq giovane negli anni 90 e un Detroit Award ne avrei sicuramente messa nel Don't Mind cioè non me ne frega niente Philadelphia allora Philadelphia allora Philadelphia ragazzi Philadelphia io non so cosa mettergli scuola storica scuola storica scuola storica sicuramente non so cosa mettergli perché il dot mine non 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 li valorizza il like per me è troppo il dislike non merita non saprei dove metterli adesso mi piacevano quelli di 4 5 anni fa di Philadelphia gli metto il like però è un like molto resicato eh molto al limite mette i Suns i Suns i Suns a me i Suns quelli di ostia i Suns quelli di Ney sono sempre piaciuti i Suns comunque sia iniziali anni 2000 erano delle squadre più forti del dell'NBA io i Suns mi spiace che non abbiano mai vinto un titolo gli metto anche questi nel like Portland squadra che al di fuori di Damian Lillard e di come si chiama e di Aldridge no ti direi anche no dislike ma in questo caso è un dislike molto vicino al like i Kings invece allora i Kings non li sopporto per essere sincero mi piacciono mi sono mai piaciuti ma i Kings comunque sia una parentesi di dove c'era Jason Kidd Chris Webber Peja Sojagovic quella squadra lì era veramente bella da vedere nei primi anni 2000 ma rimane comunque una squadra che per il resto ha sempre fatto cagare e non mi è mai piaciuta siamo agli ultimi 4 abbiamo gli Spurs che finiscono nel like Popovic ha fatto un miracolo praticamente ha fatto ha portato e sta andando in Spurs a vincere di tutte e di più cioè ci sono passati giocatori come Tim Duncan David Robinson ci sono passati giocatori come loro Tony Parker Ginobili cioè ragazzi è porca troia è un like molto vicino al love sinceramente come è un like molto vicino al love anche Toronto perché Toronto vale lo stesso discorso dei Clippers però amplificato perché la squadra che ha fatto Toronto cioè Toronto ha vinto un titolo che è un po' come quello dei Mavs contro un carry e compagni un carry e compagni però abbastanza con squadra praticamente spaccata ma i Toronto Raptors di Vince Carter e tre semi credi li valgono per il love cioè veramente se poi non crollavano così in basso Toronto io l'avrei messo nei love cioè nel love l'avrei messo per Washington non mi interessa Washington sinceramente non mi interessa c'è John Wall però adesso c'è Westbrook ma sicuramente Washington è una squadra che non mi è mai piaciuta Newton invece è una squadra che arriva sempre più off è una squadra che metto nel nei like ma è un like che è molto vicino al al don't mind cioè non me ne frega cioè al di fuori anche qui di Stockton e Malone e di quelle due finali con Michael Jordan non arriviamo a livelli non riusciamo ad arrivare a livelli secondo me non sono mai arrivati a un livello ehm superiore tra l'altro quest'anno sono primi a ovest è quasi un miracolo e sinceramente e sinceramente e sinceramente e sinceramente devo dire che non so come ci siano arrivati comunque ecco allora questa è la mia piccola tell list di 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 delle squadre di NBA come vedete abbiamo solo due squadre del love mi piacciono parecchie squadre a meno metà campionato devo dire e sono quasi tutte a excezione di indiana chicago e toronto sono quasi tutte squadre dell'ovest e e i bulls squadre dell'ovest cioè nel ho messo quasi tutte le squadre dell'est tra il non me ne frega il non mi piace e il mi fa cagare cioè è incredibile eh questa cosa questo sta a significare quanto l'ovest in NBA domina cioè veramente secondo il mio parere tra l'altro bene questo video che si è anche prolungato per troppo tempo e ed è venuto una merda comunque vi vi saluto e molto probabilmente ricomincieremo a fare anche le tire list finora basandoci su questo metodo un metodo che secondo me non piace però non posso fare altrimenti cioè ragazzi cioè così non posso fare altrimenti salvo e poi abbandono salvo salvo e intanto che salvo vi saluto e vi rimando al prossimo video ciao belli salvo